Al Vincenzo Savini Notaresco, nella seconda giornata del girone F di Serie D, Trastevere batte Notaresco con il risultato finale di 0-2. Giornata grigia per i Terramani, che non entrano davvero mai in partita e cadono sotto i colpi di una squadra, quella di Mauro Mazza, ambiziosa e ben organizzata. Decisive le reti, una per tempo, di monni e squersanti. Con le immagini di Emiliano Gigliotti, passiamo agli highlights della partita. Pronti via e dal terzo minuto c'è il primo tiro in porta della gara e il Trastevere che si affaccia in avanti, sponda aerea di Emiliani per Proia, che calcia forte ma centrale, contro la Sciba. Cinque minuti più tardi, il Trastevere sfiora ancora il vantaggio, monni lanciato a rete si lascia prima ipnotizzare da Sciba e sulla respinta colpisce il palo, ma il gioco era tutto fermo. Il Notaresco fa fatica a ripartire, la partita è piuttosto bloccata. Al ventinovesimo, però, i laziali passano avanti. Monni finalizza perfettamente un cross dalla sinistra ed in girata spiazza Sciba sul secondo palo. 0-1 a Notaresco. Questo scuote un po' i rosso-blu, che alla mezz'ora spingono sull'acceleratore, ma il tiro cross di Marchionni è sballato. Gli Amaranto giocano con ritmi alti. Al trentaquattesimo Proia si mette in proprio ed impegna Sciba sul primo palo. Due minuti più tardi, ancora ospiti vicino al bis, ma Milani, ben servito da Monni, sciupa tutto. A rientro dagli spogliatoi, Notaresco subito in avanti. Al secondo minuto, su punizione, Valenti testa i riflessi di Semprini che volentù fa togliere il pallone dall'incrocio. Entra anche Gassama, ma gli attacchi locali sono piuttosto confusionari ed il Trastevere riprende il controllo del match. Al diciottesimo, Proia sfiora il palo con un fendente dai 20 metri largo di pochissimo. Passano cinque minuti e gli uomini di Mazza accarezzano ancora il bis. Sulli sviluppi di un corner, è bravo Sciba ad opporsi ad un tiro ravvicinato. Giordani tenta poi la rovesciata che termina alta di poco. Al trentaseiesimo, il Trastevere pesca il meritato raddoppio. Contropiede fulmino dei laziali, che sfruttano un errore di Gassama e ribaltano l'azione da difensiva in offensiva. Monni scarta Sciba e da posizione piuttosto defilata offre un cioccolatino soltanto da scartare per Squersanti, il quale da due passi fa 0 a 2. Gli ultimi assalti del notaresco sono flebili ed innocui. Ci prova Gassama, troppo debole e centrale. Non accade più nulla e dopo tre minuti di recupero, il direttore di gara pone fino alla contesa. Al Trastevere il prezioso colpaccio esterno. Al notaresco, invece, una giornata da cancellare. Premere tasto Reset e ripartire dalla prossima fermata. Nereto.